Salve pirati, oggi vi spiegherò che cazzo di roba è il Community Day. Prima però iscrivetevi al canale, se no vi esploderà la barca. Allora, che cos'è il Community Day? Ma io che cazzo ne so, scusate. È una specie di festa per celebrare la community di Sea of Thieves. C'è un Community Day ogni season e dura 24 ore. Durante questo lasso di tempo, tutto quello che venderete vi frutterà sempre di più con l'andare avanti della giornata. Per guadagnare sempre di più, dovrete aumentare l'emmissario della community. Come si fa? In realtà lo fanno i giocatori che twitteranno con alcuni hashtag. Per farla breve, ci saranno altri giocatori che lo faranno al vostro posto. A meno che voi non vogliate aiutare a far salire l'emmissario più velocemente, allora preparate i pollici e andate a twittare. Se oggi entrerete in gioco, riceverete anche una bandiera. Grazie a tutti.